Buongiorno, buon sabato, buon sabato d'autunno, non so da voi che tempo facciano, qui da noi c'è pioggia, freddo, tant'è che ho dovuto anche accendere il riscaldamento a casa, insomma se lo sa il governo siamo spacciati, vabbè, ci chiuderanno il canale, andremo ad altre parti, in fin dei conti il web è bello perché è grande, al di là delle battute è veramente una giornata autunnale qua, e vabbè, stavo guardando con un occhio la partita tra il Torino allo Spezia, che potrebbe essere anche un pareggio già scritto, vedremo, e poi Venezia a Talanta, ma quello che ci interessa a noi in questo weekend sono tre partite, quella dell'Inter di oggi alle 18, forse c'è un rigore per il Torino, quella del Napoli ad Empoli domani e poi soprattutto quella del Milan di domani sera, abbiamo a riguardo alcune novità di formazione perché Pioli ha parlato in conferenza stampa, ha parlato apertamente di Scudetto e questa è una cosa importante perché, insomma, siamo cinque giornate alla fine, anche non parlarne, far finta di nulla, mi sembra una cosa un po' ridicola, quindi è giusto che si parli del fatto che siamo in corsa per lo Scudetto. Riguardo alla partita di domani sera abbiamo avuto la novità che Benasser non ci sarà, ha subito una distorsione alla caviglia nel derby di martedì e non recupera e questo ovviamente sposta le idee di formazione che potevamo avere perché se fino a questa mattina eravamo convinti che si avrebbe giocato di nuovo e che quindi la formazione sarebbe stata praticamente la stessa che ha affrontato l'Inter nel derby con questa novità di formazione, mentre attenzione perché c'è un calcio di rigore per il Torino, mentre con questa novità è chiaro che si sposta tutto e cioè che si torna in mediana e molto probabilmente Brain Dias sarà titolare. La questione è più che altro delicata per quel che riguarda il centrocampo e per quel che riguarda poi gli assetti di una squadra che andrà a giocare con quindi un trequartista contro una formazione che giocherà con i tre giocatori di centrocampo, mentre è segnato anche il Venezia, loro giocano col 4-3-3, lo sappiamo bene, è un 4-3-3 anche che si avvale di una fase di non possesso che diventa 4-1-4-1, quindi con un accorpamento a centrocampo piuttosto denso e lì potrebbe essere chiaramente il cuore della partita, cioè lì potremmo andare incontro a qualche problema anche perché loro hanno giocatori molto fisici, ma nonostante questo soffrono squadre fisiche, l'abbiamo visto col Torino ad esempio, quindi sarà una battaglia fatta molto di duelli e in questi duelli noi dovremmo essere bravi a fare le cose che sappiamo fare. Ora, che Milan troveremo domani non lo sappiamo, non lo sa nessuno, non lo sa forse nemmeno il mister, speriamo di sì, ma diciamo che i dubbi sono reciti per quel che riguarda la nostra condizione, per quel che riguarda la nostra situazione offensiva, per quel che riguarda la nostra capacità di giocare in maniera veloce, in attacco e quindi essere pericolosi. Perché dico questo? Perché ci sono alcune caratteristiche della Lazio che un po' inquadrano e delineano la partita che potremo aspettarci domani, il fatto ad esempio che la Lazio non sia una squadra che fa una pressione particolarmente feroce per andare a recuperare il pallone, quindi lascia giocare gli avversari, ad esempio il Torino ha fatto più possesso palla della Lazio nell'ultima partita e noi ci ritroveremo nella condizione di dover molto probabilmente fare la partita per lunghi tratti e dover superare i problemi che abbiamo incontrato nelle ultime settimane. Non credo che Pioli cambierà il sistema di gioco dal punto di vista di attesa, di una maggiore attesa, andremo là cercando di fare la nostra partita contro una Lazio che è una squadra che sicuramente ha fatto una stagione inferiore a quello che molti si aspettavano, soprattutto per l'arrivo di Sarri, nonostante abbia il capocannoniere del campionato, nonostante abbia una rosa di qualità e a dimostrazione della qualità della rosa lo dimostra il fatto che la Lazio è prima nella classifica dei passaggi riusciti precisi per partita, davanti al Napoli, davanti all'Inter, seconda per gol fatti a partita, una media di due e questo chiaramente sta a significare che la partita di domani sera sarà molto difficile. Non so quali possano essere le intenzioni della Lazio dal punto di vista di classifica, il ritardo rispetto al quarto posto è probabilmente troppo grande per essere recuperato, molto per loro dipenderà in un certo senso anche come per noi dalla partita di questa sera tra Inter e Roma, perché è chiaro che un successo della Roma potrebbe affievolire ancora di più l'ardore della Lazio rispetto a quella che potrebbe essere un'ipotetica idea di vincere cinque partite e vedere se si riesce a recuperare qualcosa, per contro invece una sconfitta della Roma potrebbe galvanizzarli ancora di più ed essere pericoloso per noi e sarebbe doppiamente svantaggioso, perché noi naturalmente tutti questa sera ci aspettiamo, insomma passo farso dell'Inter, perché ormai le giornate sono poche, loro giocano anche a mercoledì col Bologna, tra l'altro un orario assurdo, 20 e 15, non so perché, ne parlavo oggi con mia nipote, le 20 e 15, forse perché c'è la Champions, ma comincia da 21, no lo so, 20 e 15, orari a caso, così come un po' partite recuperate a caso, eccetera. Resta il fatto che la partita di domani dipenderà da noi, cioè dipenderà da come ci presenteremo noi, se saremo quelli, diciamo, versione Grande Torino, se saremo quelli versione Bologna, se saremo quelli versione Derby, paradossalmente dovremmo sperare di essere un mix tra tutte queste cose, cioè dovremmo essere versione Derby per quel che riguarda la fase offensiva, cercando però di sbloccare il gol, versione invece delle altre partite per quel che riguarda la fase offensiva. La Lazio è una squadra molto pericolosa in avanti, lo sappiamo, perché hanno dei giocatori veloci, hanno Immobile che segna sempre tranne il nazionale, quindi è un giocatore comunque molto molto pericoloso. La nostra fase difensiva deve ritornare ad essere quella che ci aveva permesso di ottenere nelle ultime dieci partite, il primato in classifica per punti fatti, l'abbiamo visto ieri in Friday e in live, se quella torna ad essere quella che abbiamo visto è già un punto di partenza, poi da lì in avanti dobbiamo sperare naturalmente che le Ao possa essere efficace, quindi possa contribuire a tenere bassi i loro esterni, che possa essere soprattutto molto concentrato davanti alla porta, che si riesca a rifornire giro in un certo modo, la Lazio non ha certo una difesa impermeabile e ci sono tante situazioni anche da calcio piazzato che potrebbero essere sfruttate, lo dimostra proprio l'ultima partita giocata, col gol preso da Pellegri da calcio d'angolo. Dall'altra parte dobbiamo sperare che se Remaker, se giocherà lui, presumibilmente si faccia meno casino del solito e possa essere anche lui più concreto e poi naturalmente dobbiamo confidare in Brain Dias che possa contribuire da subito dando un po' quella freschezza, quell'imprevedibilità a centro campo che gli permetta di sopperire alle carenze strutturali fisiche in una battaglia che ripeto sarà fatta di molti duelli e che quindi sarà molto molto intensa. Ci sono tantissime variabili, lo avete capito dal mio discorso, quindi tante cose che rendono in un certo senso, non dico indecifrabile, ma molto difficile capire che tipo di partita potrà essere domani proprio perché il Milan è in questo momento una squadra indecifrabile. È una squadra che non ha perso la propria identità ma che non riesce più a fare quelle cose che prima riuscivano con una certa naturalezza. Ormai anche entrare tanto come dire nei dettagli serve quello che serve perché gli uomini sono quelli, perché le partite sono cinque da giocare per cui dovremmo semplicemente crederci, dovremmo crederci e dovremmo pensare che con una fase difensiva adatta, con una fase offensiva concentrata e finalmente risolutrice, domani sera è una partita che il Milan può vincere. Paradossalmente potrebbe essere più facile vincere domani sera rispetto a gare, non lo so, come quella col Bologna in casa, fermo restando che il Bologna ha dimostrato di essere una squadra seria, il Bologna ha dimostrato di essere una squadra seria con noi, con la Juventus. Ora per non sfigurare deve dimostrare di essere una squadra seria anche con l'Inter, no? Ecco, ce lo diciamo così tra noi e i nemici di Bologna. E quindi vedremo, vedremo domani sera. Intanto vediamo oggi che cosa fa l'Inter. A detta di mio nipote, tra oggi e mercoledì l'Inter perderà dei punti, cioè secondo lui non vince, sapete che lui è tifoso dell'Inter, secondo lui l'Inter non vincerà entrambe le partite. Speriamo che lui da osservatore, diciamo, dentro le cose merazzurre possa essere veramente un buon pronosticatore di inciampi per l'Inter, però noi pensiamo a noi intanto. Buon sabato, vi ricordo domani gli appuntamenti. Domani mattina alle 8 verrà pubblicato il video, una nuova rubrica Preview, che vi darà tutte le informazioni aggiuntive a quelle che ho detto adesso, che vi potranno servire, quindi statisticamente un po' per andare incontro alla partita di domani sera e poi naturalmente ci sentiamo noi post partita e non garantisco, ma forse ci sentiremo anche dopo la partita dell'Inter con la Roma. Quindi buon sabato a tutti.